Il confine di Industria Campania Allora, so che lei è amico di questo grande maestro Infatti sono un grande amico di Leonardo Quadrini Maestro di fama nazionale ma anche internazionale Infatti con lui stiamo portando avanti anche un progetto Per internazionalizzare la musica lirica in Giappone E in particolare la musica classica Che in pratica oltre al business e al territorio che andiamo a promuovere Promuoveremo anche la musica, l'arte e tutto quello che è la storia della nostra regione Generalmente gli iscritti alle confederazioni hanno dei grandi vantaggi Quali sono i vantaggi che offre la sua associazione? Ma in particolare l'associazionismo vive un grande periodo di crisi Ma dovuta al fatto stesso che il più delle volte le associazioni Fondano il loro aggregante sulle convenzioni Noi oltre a offrire quelle che sono le classiche convenzioni Facciamo un discorso di coesione e di rappresentanza reale Nelle varie sedi istituzionali Non a caso sto promuovendo la ZES Quindi l'estensione della zona economica speciale Per tutta la regione Campania E la sburocratizzazione oltre all'informazione Di quelle che sono tutti i vantaggi e i contributi legati a queste zone Che sono in questo particolare momento Di grande supporto, sarebbero di grande supporto Alle aziende che producono in Campania Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti